Chiunque abbia giocato ai mezzo sa che il primo livello è una banana. Ho scelto una banana perché la banana è il frutto conosciuto da tutti. Che non è proprio un frutto, è una falsa bacca. Che poi, se vogliamo essere pignoli, la conoscenza è quella cosa che ti fa sapere che anche il pomodoro in realtà è un frutto. Ma la saggezza ti dice che non si mette nella macedonia. A meno che non siate i cinesi, infatti i cinesi mangiano i pomodori con la frutta. Ciò che conta comunque è che tutti quanti conoscono la banana. E voi potete dire, beh, potevi usare una mela. Tutti quanti conoscono la mela, ma non è proprio così. In più la mela ha tutta una serie di cose evocative, da Steve Jobs, a Berlusconi, a New York, ad Adamo ed Eva. Insomma, la banana va bene. Ora, i più raffinati tra voi potranno dire che la banana ricorda l'organo maschile. Però, come mi ha detto qualcuno, in Italia praticamente tutto quello che non è sferico ricorda l'organo maschile. La melanzana, un razzo, un organo maschile. Torniamo alla banana. Ma prima, sigla. Non ho granché con cui inventarmi la sigla. Dato che sono a Cagliari, vi presento Alessio, che è il mio personal trainer da un anno e tre mesi. Esatto. Tre mesi. E anche parte del prossimo progetto, di cui prima o poi parlerò, che si chiama My Perfect Body. Comunque, intanto l'avete visto, così il giorno che riuscirò finalmente a fare un video con lui, in cui spiego il senso del bodybuilding, del training, del body reshaping e così via. Non vi sarà del tutto ignoto. Ma adesso lo rimando dietro la camera e tornevo alle banane. Quando avevo 12 anni, sono andato a Quito, che è la città più alta al mondo. E da Quito abbiamo preso una guida locale che ci ha portato in Amazonia. E mi ricordo tutta una serie di cose, tra cui lo svegliarmi con 120 papagalli. Ma la cosa impressionante era che praticamente l'unico cibo era banana. Tu andavi a tavola, la tovaglia erano foglie di banano, mangiavi banana fritta, che probabilmente era platano, però ai tempi non distinguevo. E tra l'altro il problema è che in spagnolo platano sia quello che noi chiamiamo platano sia la banana. Dopodiché ti mesrei sull'amaca e potevi prendere delle banane. Insomma, tutto il mio ricordo iniziale delle banane è quei giorni in Amazonia con mio padre e la guida. E' una roba che se potessi rifare la vita, la rifarei domani, perché in Amazonia era una roba spettacolare. Comunque stai divagando. Le banane producono 120 milioni di tonnellate l'anno, che significa che sono uno dei quattro cibi più consumati al mondo. Quindi riso, grano, patate e banane. Questo vi dà un'idea di scala. Se poi togliamo i processi di trasformazione, la banana è la cosa più consumata in assoluto, perché nessuno si mangia il grano a morsi, no? Per darvi un'idea, la mela è metà della produzione delle banane nel mondo. Cioè la banana è... Per darvi un'altra idea, un italiano in media in un anno mangia 60 banane, che vuol dire che a 40 anni ha già mangiato 2.500 banane nella vita. E se vi sembra tanto, andiamo negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti consumano quattro volte più banane di noi. Cioè un quarantenne è alla banana numero 10.000. 40 kg di banane l'anno. Io non so come su qualsiasi cibo, gli americani ne consumano quattro volte di più. Mangiano quattro volte più di tutto, non ha senso. Cioè tu prendi la carne, va beh. americani come esempio dell'eccesso sempre. Ma quando parliamo di banane, in realtà ci sono banane e banane. Ci sono circa mille tipi di banane, che sono tutti incroci tra la musa acuminata e la musa balbisiana. Ma tra tutte queste banane, noi praticamente ne mangiamo soltanto una, che si chiama Cavendish. E non solo ne mangiamo praticamente solo una, ma si riproduce per talea, quindi praticamente mangiamo sempre la stessa banana. Questa cosa delle Cavendish l'avevo scoperta parlando con Maurizio, che è tipo il pozzo di scienza, che parla poco nella ciotta di Megzole e Pomiglio. Però c'è sempre questa cosa infinita e quindi un giorno lui mi aveva detto Ah, ma tu sai che la banana che mangiamo si chiama Cavendish? E avevo iniziato un'enorme ricerca su come mangiare le altre banane. E tra le altre banane, la banana che io volevo mangiare si chiamava Grossmichel, che era la banana che fino, probabilmente ai tempi di mio nonno, più o meno, parliamo dell'inizio del Novecento, era la banana. Dopodiché ci fu una megaepidemia e siccome il problema della riproduzione per talea è che la pianta è sempre la stessa, ti becchia una megaepidemia e quella banana scompare. In realtà non è scomparso, ho scoperto che in alcune zone dell'Asia, però è praticamente introvabile. Poi la Grossmichel non l'ho mai mangiata, però quando ero a Madeira avevano un tipo di banane diverso, che sono più piccoline, e la roba assurda che era per qualche registrazione europea, non potevi venderle perché non erano il formato delle banane, ed erano buonissime! Io non so come fosse perché la Grossmichel aveva la buccia più spessa ed era più dolce. E queste banane più piccoline, buonissime, poi a Bali avevano un altro tipo di bananina che non mi piaceva così tanto, però per qualche motivo quelle di Madeira me le ricordo strepitose. Questo è per dirvi, se viaggiate date un'occhiata alle banane, magari non sono le banane che pensate voi. E insomma, oggi mangiamo la Cavendish. In realtà, se per caso qualcosa andasse male con la Cavendish, c'è già la banana pronta dopo, che è una banana inventata, inventata prodotta e non durasse nel 1988, con il nome Goldfinger, che ha una serie di caratteristiche meravigliose, come per esempio il fatto che non si annerisce, quindi la puoi mettere nell'insalata, nell'insalata, quindi la puoi mettere nella Macedonia, rimane bella, eccetera, però ha un piccolo problema ed è che sa di mela. Che è interessante, magari i nostri figli o i figli dei nostri figli mangeranno una banana che sa di mela e penseranno che quello è il gusto della banana. Teniamoci stretta la Cavendish finché possiamo, che poi se vi venisse il dubbio, Cavendish viene da William Cavendish, il sesto duca del Devonshire, che aveva dato il nome a questa banana che era cresciuta in una delle sue infinite terre. Tra parentesi, Cavendish è anche ricordato per aver portato il globo Crucigero nell'incoronazione di Giorgio IV del 1821, ma questa è un'altra storia. Tornando a noi, la Cavendish ha una lunghissima storia, ma anche una strana geografia. È originaria del sud-est asiatico e inizia a muoversi verso l'ovest, per cui dal sud-est asiatico arriva all'India, dall'India arriva al Medio Oriente, dal Medio Oriente arriva all'Africa, salta completamente l'Europa e viene portata nel Nuovo Mondo per dare cibo a basso costo, come si faceva con le patate, agli schiavi. E nell'Europa ci arriverà nel 1870 perché la United Fruit Company, poi viene richiamata Chiquita, che sicuramente vi ricordate, decide in una guerra commerciale tra America e Europa di portarla come frutto in Europa. Non voglio andare nel dettaglio la storia della Chiquita, che adesso è tipo una mega multinazionale con sene in Svizzera, con cose... Però due parole ve le devo dire, perché aveva uno di quei metodi industriali di sfruttamento dei paesi, che è quello che dà l'origine all'espressione Repubblica delle Banane. Nel 1951 la United Fruit Company aveva come due grandi azionisti i fratelli Foster. I fratelli Foster erano uno segretario di Stato e uno direttore della CIA, per cui vi dà un'idea, e aveva un'enorme quantità di piantagioni in Guatemala. Ed è in Guatemala che si sviluppa l'espressione Repubblica delle Banane perché in Guatemala praticamente ha sotto il controllo americano una serie di dittatori amici che permettevano la coltivazione alle banane. Ed è in Guatemala che a un certo punto un tale nome Arbenz praticamente fa una campagna dicendo che la United Fruit Company sfrutta le loro terre e riesce a vincere, cioè riesce a vincere le elezioni e quindi inizia una campagna planetaria per convincere il mondo che Arbenz era uno al soldo dell'Unione Sovietica che era stato messo lì per portare il comunismo e quindi per formare Arbenz la CIA finanzia un esercito di milizie paramilitaria come lo volete chiamare, comunque un esercito di milizie che riesce nel 1954 a fare un colpo di Stato in Guatemala e riportare al potere qualcuno amico della United Fruit Company. È così che la Repubblica delle Banane torna a essere la Repubblica delle Banane. Ovviamente come succede in queste mega aziende una volta che arrivano al potere in tempi recenti la Cichita decide di essere la prima azienda al mondo che crea un codice di condotta per cui loro non sfrutteranno insomma questa storia è qua, no? Intanto ho preso il potere ho guadagnato tanto e adesso rovino la festa agli altri perché io posso essere sostenibile. Che non significa che non sia una buona cosa, è una buona cosa. Cioè abbiamo una delle più grandi aziende al mondo che ha un codice di condotta quindi va benissimo ma tant'è. Ora vorrei dirvi che tutto è risolto. In realtà nel 2019 Greenpeace ha pubblicato una serie di comportamenti per rendere il mondo più sostenibile e tra questi c'era il fatto di non mangiare banane e c'era anche Anna, schinoa e avocado perché erano considerati frutti che non sono mai coltivati in maniera sostenibile. Di solito il problema è assolutamente deforestazione. Sull'avocado ho visto un documentario che diceva come radevano solo tutto perché sull'avocado è diventato super conosciuto in Europa e richiestissimo e costosissimo e quindi hanno un interesse enorme a prendere avocado. Voglio chiudere il video con un paio di note divertenti così ci risolviamo un po' l'umore. Negli anni 70 ci fu un falso studio che diceva che i filamenti della banana avevano effetti psicotropi e praticamente l'idea era di mettere in forno la banana e siccarla a prendere i filamenti e fumarseli e doveva sballarti. Ammetto di averlo fatto? C'avevo avuto 14 anni. Comunque è falso. Qualche tempo fa i ricercatori dell'Università di Rio hanno sviluppato il banana pluck che è un materiale che dovrebbe sostituire il legno multistrato quindi potrebbe diventare la nuova cosa che fa concorrenza IKEA non sarebbe male. Il pane alle banane invece è un dolce che è entrato nella cucina statunitense nel periodo della Grande Depressione nel tentativo di recuperare le banane troppo mature. Non so se l'abbiate mai mangiato in Italia non è comune in Inghilterra e in America si trova praticamente ovunque per colazione per dopo pranzo ed è buonissimo. Un altro di quei casi in cui l'inventiva dei tempi di magra porta a qualcosa di grandioso. Che poi c'è anche la giornata del banana bread che è il 23 febbraio che vi darà un'idea di quanto sia buono. Dovrò fare la giornata di Megzol però Megzol ha lanciato il 14 febbraio che è già occupata da un'altra festività a cui si dà troppa importanza rispetto a Megzol. 14 febbraio giornata mondiale di Megzol. Forse non tutti sanno che le banane crescono al contrario rispetto a come ci si aspetterebbe sugli alberi con la punta rivolta verso l'alto non verso il basso. E ultima nota la buccia di banana non è scivolosa come si pensi e due scienziati giapponesi hanno passato un sacco di tempo a studiarla vi risparmio sui dettagli ma hanno fatto uno studio mostruoso tanto da vincere nel 2014 un Ig Nobel per questo studio. Anche nell'idra alle banane forse sono riuscito a stare intorno ai 10 minuti grazie per avermi seguito se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo così riesco a continuare a fare video grazie mille e a presto.